Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con la primissima parte degli acquisti manga del mese di aprile 2021. Sì, un altro video di questo tipo dopo quello pubblicato settimana scorsa nel quale vi mostravo all'incirca 20 volumi. Per il semplice motivo che sono passato in fumetteria e ho deciso di registrare questo video onde evitare di dimenticarmi quello che avevo appena acquistato. Questo per farvi capire quanto la mia memoria stia cadendo in basso in questo periodo. Detto questo prendete i pop corn, una bebita fresca e gustatevi questo video perché questi sono gli acquisti manga del mese di aprile parte 1 ma prima di far ciò, come sempre, mandiamo la nostra fantastica sigla. E direi, come sempre, di partire dalla planet. In questo inizio aprile sono andato avanti con il recupero di una serie che sorprendentemente mi sta piacendo tantissimo. Molti di voi avranno già capito di quale opera io stia parlando e ovviamente mi sto riferendo a Slam Dunk. Ecco qui il terzo volume dell'edizione italiana editato dalla Planet Manga con un prezzo di copertina di 7€ ma non ho preso solamente il terzo volume, infatti ho comprato anche il volume numero 4 e il volume numero 5. Ecco a voi la fantastica copertina del volume numero 3, volume numero 4 ed infine il numero 5. Come già detto più volte nel corso degli scorsi video, quest'opera mi sta piacendo tantissimo ed è una sorpresa anche per me, per il semplice motivo che gli Spokon in linea generale non mi piacciono. Nel corso della mia vita, infatti, l'unica opera di questo genere che abbia mai visto, barra letto, è stato Capitan Tsubasa arrivato in Italia con il nome di Oli e Benji. E sono davvero contento che un'opera come Slam Dunk mi stia prendendo tantissimo. Ho già avuto modo di leggere il volume numero 3 e il volume numero 4 e la partita amichevole fatta con la Rionan, penso sia questo il nome giusto, mi è piaciuta tantissimo ma soprattutto mi ha gasato tantissimo e la crescita di Anamichi è sorprendente. Incomincio a capire per quale motivo moltissime persone definiscono quest'opera un capolavoro. Bella, bella, bella. Altro manga che invece in Italia sta uscendo con una velocità impressionante è We Never Learn. Infatti oggi sono qui con il volume numero 10. Ecco qui la copertina del decimo volume con due delle cinque protagoniste in primo piano. Sta uscendo talmente tanto velocemente questo manga che a faticare riesco a starci dietro. Banalmente si tratta di un romcom molto simpatico con situazioni imbarazzanti e molti, 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 molti fraintendimenti ma riesce comunque a divertire e a proporre situazioni molto divertenti. I personaggi principali sono ben caratterizzati e per citare il buon faffo del canale appunto Faffo Time del quale vi lascio il link in descrizione ma Fuyu Kirisu mi fa venire il pipo a ponte elevatoio. E porca vacca quanto si vede che l'autore di questo manga è stato allievo dell'autore di Nisekoi. Si vede tantissimo. Ecco qualche tavola di esempio nella quale potete ammirare la supremazia della Sensai Kirisu. Prezzo molto basso, opera molto divertente se le romcom sono il vostro pane quotidiano allora We Never Learn vi piacerà sicuramente. Ora invece possiamo passare a Star Comics Questo volume l'ho cercato per tantissimo tempo se vi ricorderete bene l'anno scorso avevo fatto un video unboxing dove avevo comprato appunto i volumi numero 1, 2 e 4 di Another lamentandomi del fatto che su Amazon o comunque su nessun altro sito fosse presente il volume numero 3. Finalmente grazie a un'occasione su Vinted sono riuscito a recuperarlo ed eccolo qui. Ecco qui infatti il volume numero 3 dell'edizione italiana edita da Star Comics con un prezzo di copertina di 4,90 euro. Ecco qui la stupenda copertina del volume numero 3. Direi che è stato un parto trovare questo volume è dir poco ci ho messo tantissimo trovarlo, circa 13 mesi. Comunque non posso dirvi tanto perché non mi ricordo essenzialmente un cazzo dei primi due volumi di conseguenza dovrò andare a leggermi tutta la serie. Grazie mille Star Comics che non ristampi a nodere e di conseguenza è rarissimo trovare questo volume. My Hero Academia numero 27 anch'esso edito da Star Comics con un prezzo di copertina di 4,30 euro. Ecco qui la fantastica copertina di questo volume con Twice e Hawk in primo piano. Partendo dal presupposto che so tutto su quest'opera in quanto la leggo anche la domenica in scan legali su Manga Plus. E posso solo dirvi che questa saga iniziata appunto con questo volume è da orgasmo vero e proprio. Combattimenti mozzafiato, vicende sorprendenti e tanto tanto altro. Se ancora non avete iniziato quest'opera mi raccomando iniziatela perché questa saga vale tutti i soldi spesi. E ora arriviamo a uno dei Manga che aspettavo di più in questo inizio d'anno insieme ad Akira il quale appunto è già stato preso e mostrato nel corso dello scorso video. Questa volta però ci troviamo come già citato in casa Star Comics e mi sto riferendo alla nuovissima edizione di Shaman King. Ecco qui il primo volume dell'edizione italiana edito da Star Comics con un prezzo di copertina di 5,90 euro ma non ho preso solamente il volume numero 1 infatti ho preso anche il volume numero 2. Cosa? Non c'era il pack e quindi ho preso solo il volume iniziale? Ok. Eh purtroppo sì la mia fumetteria ha capito male pensava volesse solamente il volume numero 1 e non il pack anche col volume numero 2 di conseguenza sono molto triste e posso andare a piangere nell'angolino. Tornando seri questa è la copertina del volume numero 1 stupenda. Finalmente posso leggere quest'opera ho visto tutto l'anime quando andò in onda su Italia 1 e mi era piaciuto tantissimo. Attenzione so benissimo che la trama dell'anime differisce da quella del manga ed è per questo motivo che volevo recuperarmi quest'opera. Non vedo l'ora di leggere questo volume sicuramente in questi giorni lo farò e magari ve ne parlerò meglio nel video delle migliori letture del mese di aprile. Detto questo sono molto curioso grandissime aspettative per questo manga. Sono curiosissimo. Secondo me si tratta di un must have da avere nella propria collezione. E per l'ultimo volume di questo videoacquisti ci spostiamo in casa J-Pop. E come ben saprete questo mese si conclude The Promised Neverland e infatti eccomi qui col volume numero 20. Ecco qui l'ultimo volume dell'edizione italiana edita da J-Pop con un prezzo di copertina di 5,90€. Ecco qui la copertina di questo volume con un misto bosco di personaggi allucinante. E niente potrei dire che sono triste del fatto che The Promised Neverland sia finito ma non è così per il semplice motivo che gli ultimi 4-5 volumi mi hanno fatto abbastanza cagare. Si è avuta una netta discesa nella qualità del prodotto e da un manga che poteva essere un potenziale 9 come voto si è scesi a un banale 6,5-7. Questa ovviamente è una mia opinione personale rimane comunque un'opera valida se cercate uno shonen un pochino diverso rispetto agli altri. Sincero sincero devo ancora leggere quest'ultimo volume ma non ho moltissime aspettative sul finale anche perché moltissime persone diverse mi hanno detto che fa abbastanza cagare. Benissimo. E questi erano i primissimi acquisti del quarto mese del 2021. Fatemi sapere nei commenti cosa avete comprato voi ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate dei miei acquisti. Detto questo il video si può concludere qui e io spero vi sia piaciuto vi invito come sempre a mettere un bel mi piace iscrivetevi al canale condividete il video con i vostri amici vi ricordo che in descrizione potete trovare i link sia per la mia pagina Instagram ma anche per il gruppo Telegram dai ragazzi vi aspetto per fare due chiacchiere. Ultimissima cosa ma forse la più importante attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità di Maltality e noi quindi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.